Allora qui proponiamo panino con un bustel di suino nero de nebrodi, cipolla caramellata da noi, craudi, accompagnato dalle classiche salse, maionese, ketchup. Suino nero de nebrodi, quindi grande protagonista? Sì, 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 del territorio, rimaniamo a casa e sponsorizziamo quello che è il chilometro zero. Come nasce quest'idea? Nasce, noi ogni anno cerchiamo di portare delle novità, ma come ripeto, vogliamo rimanere sul territorio e valorizzare il chilometro zero della nostra bella Sicilia e della nostra provincia. Mi sembra di capire che non sia la prima partecipazione, vi è piaciuta la scorsa edizione? La scorsa edizione, anche quella estiva, abbiamo partecipato, il pubblico risponde bene. Cosa vi aspettate quindi da queste giornate? Che sia altrettanto bello e divertente come le due edizioni precedenti. Grazie. Buona serata. Buona serata. Buona serata.